mio fratello costa caro vedi guardate queste sono le prime parole che sto dicendo vedete lui sta parlando e sto dicendo mio fratello costa caro vedete sono io 40 giorni già sto dicendo mio fratello costa caro mio fratello costa caro mio fratello costa caro vladimir putin kemal patrick kutineiden travestito gil e